E Nicole Minetti, Nicole Minetti, anche Nicole Minetti si butta su OnlyFans, la celebre igienista dentale di Silvio Berlusconi che ha avuto dei processi e ora si trova in cattive acque. Allora pensa di utilizzare il suo corpo, il suo corpo, il suo corpo, il suo corpo, il bello corpo di Nicole Minetti, di utilizzarlo su OnlyFans, cioè si butta pure lei sul porno. Il fatto è che Nicole Minetti, si vede che Nicole Minetti non conosce i video di Serafino Massoni, peccato, 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 eccolo qua Serafino Massoni, cara Nicole Minetti. Se tu seguissi i video di Serafino Massoni, che tra l'altro ha già parlato di OnlyFans, comunque Nicole Minetti, se tu seguissi i video di Serafino Massoni, guarda Nicole Minetti che Serafino Massoni ha già compiuto 81 anni, presto ne compie 82, perché Serafino Massoni è nato nel febbraio 1940. Ed oggi come oggi Serafino Massoni è uno dei più potenti opinionisti del web, perché sta sulle grandi piattaforme mondiali, è Dailymotion, YouTube, e su YouTube Serafino Massoni ha circa 11 milioni di visualizzazioni. Allora, se tu seguissi o avessi seguito i video di Serafino Massoni, non la prenderesti questa brutta strada di buttarti su OnlyFans, perché io ho già spiegato che OnlyFans è destinato a morire, a morire. Perché OnlyFans è una piattaforma, è un website dove ci sono dei video hot, però quelli che vogliono guardare questi video hot devono pagare un abbonamentino, e le girls che mettono i video hot prendono i soldini, ma sembra che navighi in cattive acque, OnlyFans, è chiaro che navighi in cattive acque, perché Serafino Massoni, che sono io Nicole Minetti, questo qua Serafino Massoni, ha già spiegato che oggi noi viviamo nella società liquida, descritta da Bauman, il grande sociologo Bauman, che è morto da poco. Nella società liquida non ci sono più i valori forti, ci sono solo i valori deboli. Beh, ce n'è rimasto uno solo di valore forte nella società liquida. Il valore forte che c'è nella società liquida è il solidum, il solidum, è l'antica Roma, solidum era il denaro, solidum, da cui derivano le parole solidale, solidarietà, solidarizzare, solidarietà. Solidum è l'unico valore forte che c'è nella società liquida, il solidum. Poi tutti gli altri valori sono spariti, per cui nella società liquida le girls e le ladies la danno via subito, 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 gratis. Per cui nessuno va più a vedere i video porno, Nicole Minetti, perché le cose porno le fanno in casa propria, o in casa di lei. Perché, perché ripeto, nella società liquida, descritta dal grande sociologo Bauman, nella società liquida non ci sono più i valori forti, per cui le girls e le ladies la danno via subito gratis, non dico a tutti, ma quasi. Per cui nessuno, di solito sono gli uomini che vanno a vedere i video porno, di solito, pure qualche donna. Per cui gli uomini non ci vanno più a vedere i video porno, non vanno più a vedere i video porno gratis. Nicole Minetti, figuriamoci, se vengono su OnlyFans a vedere i video a pagamento. Andiamo, andiamo Nicole Minetti, cara, io ti salverò Nicole Minetti, perché io sono un uomo buono Nicole Minetti. Guarda Nicole Minetti, se tu mi scrivi, tu mi scrivi, scrivi in calcio a questo video. Se mi calcio a questo video, Nicole Minetti, tu scrivi il tuo preciso ricapito postale, nome, cognome, ricapito postale preciso, ed io ti faccio pervenire a mie complete spese postali una copia di questa mia opera storico-mitologica, col mio autografo. Poi se voi ci possiamo pure incontrare da qualche parte, e io ti posso aiutare a trovare un lavoro solido, un lavoro remunerativo, Nicole Minetti. Uuuuh, quanti posti che ci sono, posti di lavoro che ci sono in Italia, ma pure in Europa. E' per esempio le badanti, pensa Nicole Minetti, che in Italia ci sono oltre un milione di badanti straniere dell'Europa orientale, ma pure delle Filippine, della Nigeria. Un posto di soppagate bene le badanti, Nicole Minetti, cara, cara, che io ti salverò. Capito, Nicole Minetti? Capito, mandami il tuo preciso ricapito postale, che io ti farò pervenire a mie spese postali una copia di questa mia opera storico-mitologica, vedi la stilpa del serpente, con tanto di firma, il mio autografo, cara Nicole Minetti, ma che cosa ti vuoi buttare su OnlyFans? Ormai oggi il porno è alla frutta, figuriamoci il porno a pagamento, figuriamoci, cara Nicole Minetti, che io ti voglio tanto bene, cara. Ah, guardate che la notizia io non me la sono inventata, eh. L'ho letta qua sul Fatto Quotidiano, l'ho letta, e tale notizia ve la metto come l'igno di assunto di questo video. A te, Nicola, Nicole Minetti, e a tutti voi tanti cari saluti da, da chi, ma dalla stilpa del serpente.